Daniela tiene pubbliche relazioni Danila tiene pubbliche relazioni Mentre il marito è qua che non ne può più capotavola Però bisogna prendere posto Moglie vieni qua vicino a me Ecco ma io ho appena detto che non ne vuoi più che ti sei seduto per i fatti tuoi Insalata russa di Graziella Vieni qua Allora c'è il marito che deve essere venuta e sua moglie vicino Non aveva visto il posto al sole Non aveva capito niente perché c'è l'ombra tra l'altro Ah ecco Gianni, noi origini contattive Graziella che è il marito che è tutto vicino Abbiamo già fatto un errore Ma cosa fai? Ecco qua Ma cosa fai? Ah sì Ah sì Se la mette tu stai Voi mettete qua Se non lei Ah 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 Sveglia qua Sveglia qua Sveglia qua Sveglia qua Sveglia qua Ciao marito di Alessandra Ciao Pronti Il più bello di tutti Guardatelo qua Il più bello di tutti Il Samsung Galaxy S2 Tovaglioli mi avete sì Madonna che bello di bello Ok C'è una bella Ah ok Prego No non l'abbiamo visto Allora Paola Ferretti Ciao Ciao Erika Brava Ma come succede davanti? Faccio un beletto Ciao 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 Mi fa ciao ciao Questo è il mio marito Piacere Ciao Erika Se volete Devo fare Sì Prego Il papà Il papà sta il fenone Vai Ciao No Allora Cosa vuoi? Cosa hai fatto? Ma io posso Ho visto E' una città Che mi avevo Ho immaginato Bene bene C'ho ancora la solita moglie Ma me la devo tenere Ma non appetito Devo cambiare Puoi ripetere? C'ho ancora la solita moglie Ma me la devo tenere Ok E' buono Vedi Mia sorella cerca il marito Ha capito il conto Hai visto? Ma il tuo marito no Perché ho fatto troppo Comunque Laura dieta Scusa eh Passo Siete già in una posizione down Guarda che tu sei ospite Ti devi togliere la sua paura Invece tu cosa sei? Io mi sono sentito perché sono prepotente No sempre in potenza È meridionale se No sempre in potenza Meridionale È diverso Sì ma il papà di Fuglia Fate sedere il papà di Fuglia E' solo nostra questo Tu vuoi? No Cosa prendi? Cosa combinano sti due? Stanno litigando per l'isola Teresimo Maltà Grazie 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 a voi Cosa ti ho fatto? Cosa ti ho fatto? Cosa ti ho fatto? Cosa ti ho fatto? Così Nancy È un amico adesso che hai giocato con me Un giorno ti ho fatto Nassi Ma che se ne fai? Ma si mette davanti a vai io Ma signora sti ignorando E' venuta adesso Perché io non mi so Sei già fortunata Cosa ti ho fatto No io non so Non mi so Non mi so Non mi so Perché io valgo meglio Invece con te Già hai capito? Una delle migliori Qua parti Allora Silenzio Silenzio Le note Resi Sol Ma la preghiera Non la diciamo Prima di mangiare Ah L'avete già detto? Abbiamo già detto Bene Brave Va bene La preghiera Già detta Ma non dobbiamo Tiene la preghiera È già stata detta Cristina È già stata detta Amore Ciao Ciao È bello riprendere Tutti con la bocca piena Guarda Una figata assurda Erika Sto riprendendo Bellissima Guarda Stupend Ciao Erika Ciao Salatino No no Io adesso sto riprendendo Quando poi finisco Allora io e te Non abbiamo una foto insieme Chiamiamo la figlia lì Come si chiama? Elisabetta 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 Ci fai una foto Anche per male Grazie Grazie Ben gentile Io adesso non riprendo Perché sennò qua Si mangiano tutte Le cose E io non mangio niente Vorrei dire che poi farò il video In questa situazione Che voi guardate Va bene tutto Basta perché se no